Anche per l'Abruzzo sarà possibile presentare una proposta progettuale che sia in grado di valorizzare il territorio in relazione all'iniziativa Il Turismo delle Radici e quanto prevede l'iniziativa Bando delle Idee, Turismo delle Radici, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura. È un progetto importante e ambizioso sul quale la Regione Abruzzo ha dato la piena disponibilità e collaborazione al Governo nell'ambito della programmazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, ha sottolineato l'assessore al turismo Daniele Damario. Da diversi mesi siamo impegnati come assessorato sul tema del turismo delle Radici e abbiamo avviato una stretta collaborazione con Maximiliano Manzo, indicato dal Ministero degli Affari Esteri, quale coordinatore della Regione Abruzzo. Questa è una Regione che sul tema può esprimere eccellenze e progetti innovativi, grazie soprattutto ai soliti e duraturi rapporti con le associazioni degli abruzzesi del mondo. Grazie. 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 Grazie.